A Termoli vorremmo un centro sociale autogestito come ad esempio il Leoncavallo che sta a Milano dove c'è anche un centro ricreativo. Poi più manutenzione dei parchi dato che sono tenuti molto male. Più spazi verdi che costruiscono case su case gente che non ha nemmeno i soldi per andarci ad abitare. Già se abbiamo un centro sociale autogestito come avevamo una volta noi che stiamo di quella zona del terminal. Prima avevamo il terminal poi ce l'hanno tolto il comune. Siamo andati a chiedere e richiedere più volte al comune. Ci hanno detto di aspettare sempre e non ci hanno dato più niente. Ci hanno tolto un'area dove potevamo togliere i ragazzi dalla strada. Invece stanno sempre lì. I ragazzi che si drogano va bene. I ragazzi che stanno tipo a ballare in piazza o ovunque per la strada fanno occupazione del suolo pubblico e non è possibile. Quindi stiamo tra di noi uniti non va bene. Ci droghiamo va bene. Anch'io sono d'accordo con quello che ha detto lui perché abbiamo il parco di Tarmoli che anche se era stato ristrutturato ultimamente erano state aggiunte delle cose comunque non sono durate molto.